Il ruolo istituzionale che rivesto, la mia storia politica, mi impongono di non restare in silenzio rispetto a questa scelta, che non ho condiviso e non condivido oggi. Il Consiglio regionale della Campania non può avallare la scelta di non rinnovare la Commissione Terra dei Fuochi, bonifiche e rifiuti. Ce lo impone il grido di dolore che ancora si alza forte da quella pace del nostro territorio che quotidianamente continua a respirare veleno dove sono i rifiuti intombati e continuano a giacere lì dove sono stati scoperti. Una volta la parola Terra dei Fuochi era utile per tutte le campagne elettorali. Durante l'estate i roghi non si sono fermati e continuano indisturbati a bruciare soprattutto nei pressi dei campi Rom tonnellate di rifiuti di ogni genere che giacciono per mesi lungo le strade periferiche e i principali assi viari della Campania. Senza che la Regione sia mai intervenuta in sostituzione di quei comuni inadempienti per rimuovere questi rifiuti, prima che fossero dati alle fiamme. I comuni dicono che non hanno soldi. La Regione quindi o deve adottare risorse oppure deve intervenire, cosa che non è successa. L'aria è irrespirabile e si aggiunge agli inquinamenti generati dai cementifici, dalle centrali a biogas, dall'inceneritore di Acerra che continua a inghiottire rifiuti indifferenziati la cui produzione non riesce a diminuire in mancanza di politiche regionali mirate alla prevenzione dei rifiuti. Per farla breve voglio parlare soltanto e nominarla, pianura, olzarno, problemi troppo grandi forse per essere affrontati. È un argomento questo molto scomodo per questa amministrazione che si succede senza soluzioni di continuità con quella precedente. Poco ha fatto per fermare i roghi, per realizzare bonifiche, per risolvere i problemi. In efficienze rivelate sia nel sistema di controllo, anzi più che spesso ha agito in senso opposto riducendo la quota di risorse, per esempio per distribuire le sue coballe. D'altronde basta leggere stamattina, l'ho letto con attenzione, il programma di De Luca, 86 pagine, nelle quali la parola terra dei fuochi non viene mai nominata. Era doveroso istituire questa commissione nei confronti proprio dei campani, perché questa commissione, presieduta dall'opposizione, ha un ruolo fondamentale di controllo e di stimolo per la maggioranza. Il Consiglio non si può privare di questo strumento fondamentale per dare l'attenzione che merita a questa che continua a essere una tragedia, che si consuma ancora in danno di una buona parte dei cittadini campani. Ed è scandaloso che la parola terra dei fuochi appaia, se non nei programmi elettorali. Questo brevemente per dirvi. Siamo tutti consiglieri campani. Molti consiglieri sono stati eletti proprio nelle zone dove si continua a bruciare e non si respira. Ignorare la commissione terra dei fuochi, non parlarne, è una cosa gravissima e scandalosa. Questo è il motivo per il quale io mi astengo dalla votazione e dichiaro in questo momento il mio voto. Grazie. 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 Grazie.